La Ferrari ha fatto il SUV. Adesso beccatevi la sigla e poi ci andiamo a leggere i commenti della rete a questa uscita di cui ha parlato tutto il mondo. Ciao amici del Bruce Garage, buongiorno, buongiorno. Ciao amici, siamo con il mitico Gigi Galli che ha appena terminato la gara qui diamo. La macchina elettrica è come una figlia che non ce l'ha data. Eccoci qua, vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi al canale e spuntate la campanella, mi raccomando, non dimenticatevi. Poi alla fine del video, se vi è piaciuto, magari mettete anche un like e commentate, ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Allora ragazzi, come tutto il mondo dell'auto sa, da un paio di giorni, è stato rivelato, mostrato al mondo il nuovo SUV, anche se loro lo chiamano in un altro modo. Mi fa ridere perché uno in un commento ha scritto FUV, Ferrari Utility Vehicle. Niente, ragazzi, è successo, è successo. Voi vi ricordate quando uscì il Cayenne? Il Cayenne Deezer, ragazzi. Cioè già quando uscì il 32 la gente rimase internet. Già quando uscì la Cayenne, la gente rimase interdetta. Correva l'anno 2002 in Italia e Porsche grazie alla Cayenne non è fallita. Non è fallita grazie alla Cayenne. E grazie dopo anche alla Panamera e grazie a delle entry level di categoria, sia al volante che esteticamente, quindi Boxer e Cayenne più giuste. Torniamo ai tempi nostri. L'Aston Martin ha fatto il SUV e lo possiamo vedere anche durante le gare di Formula 1 e quindi niente. La Lamborghini ha fatto il SUV. Doveva farlo anche la Ferrari. Perché doveva farlo, ragazzi? Ma è talmente scontato e banale che non merita neanche una risposta. Già lo sapete da soli. Si fanno numeri, si aprono nuovi mercati, si creano i presupposti affinché finanziariamente il marchio sia sempre più solido e appetibile e si creano anche dei fondi per poi poter continuare a fare le hypercar e tutto il resto. D'altronde, perché non farlo? Cioè sinceramente, visto il mondo in cui viviamo, ormai da una ventina d'anni, appunto dove sono sorti questi SUV, la moda di questi SUV, che è piaciuto così tanto che li hanno dovuti declinare in tutte le misure possibili, scendendo verso il basso, quindi con l'avvento poi di quelli che chiamano crossover, le macchine le hanno alzate facendole sembrare dei SUV, ecco i crossover. i SUV dovevano nascere appunto come mezzi che andavano bene sia in strada che in fuoristrada, sterrati, cose leggere, niente di che, la casa in campagna c'è da fare un po' di strada sterrata, qualche piccola roccia, ma niente di che. I SUV della Lamborghini, i SUV dell'Aston Martin, la tonale quadrifoglio, l'ML, l'MG, insomma, sono più macchine che fuoristrada. E chiaramente uno che conosce la fisica, inevitabilmente, sa che un baricentro alto, con un peso e un CX, sono tutti ingredienti che allontanano, si allontano dal concetto di sportività che può avere una vettura, però tant'è, li hanno fatti e devo dire che a parte il... io sono andato ad alta velocità, ad altissima velocità con questi SUV, il peso, il peso è spaventoso, cioè quando tu sei a 2,50 e rilasci e devi fermarle, loro si fermano perché hanno degli impianti frenanti pazzeschi, ma è lì che hai quell'attimo di brivido che dici, ma dove cavolo sto andando, cosa sto facendo, io sono qua su una roba gigantesca. E quindi niente, è uscito il SUV della Ferrari. Ripeto, andava fatto. Adesso voglio leggere qualche commento della rete per aprire una discussione, ragazzi, perché insomma non è che possiamo star qui a far finta di niente. Il mondo si divide, ma vediamo in che percentuale. Allora, inizia Luca Hall, non si firma. Io sto leggendo i commenti al mio video su YouTube. Un'altra giornata nera per l'automobilismo. Grazie a Dio che Pagani l'ha fatta uscire col manuale, l'autopia. Andrea Arancati, la nuova corrazzata Potionghi. Doppio occhialato. Non vedo l'ora che diventino, scrive Giuliano Tumiotto, non vedo l'ora che diventino di modo i trattori al posto dei furgoni SUV. Così sarà la Ferrari che imita Lamborghini. Antonio scrive, con 390.000 euro su due piedi comprerei. Io non ho parlato delle prestazioni del Vodovic, grazie a Dio aspirato, non ho parlato del prezzo. Tanto si sa, si sa, l'avete già letto e visto ovunque. Allora lui con 390.000 euro comprerebbe. Un M3 46 manuale, già fatto. Porsche 996 Carrera 2, già fatto. Aston Martin DBS aggiungerebbe. F4 e30 F1 del 2006, Maserati Gran Turismo 2008, SL 63 MG 28 2,12. Ecco, e qualche spicciolo mi rimane ancora. Ma mai sto c'è, sto c'è. Allora, ragazzi. Mario Rossi, che spreco di motore. Gian Marco, un V12 su un SUV pesante è la cosa più insensata e priva di logica che esista. Poi se parliamo di una Ferrari siamo messi malissimo. eviterei chiamarla puro sangue, mi vergogno per l'O. Ogliela Martina. Can sé, 8974. I tempi cambiano e anche Ferrari si adegua. Peccato, bello oggetto, impossibile dire il contrario. È puro lusso. Angelo Topputo, unica cosa positiva al V12 è che non è ibrida. Poi per il resto si fanno auto per raggiungere profitti, redditività e pagare i lauti stipendi. Scusate, ai piani alti. Auto senza anima, disegnate al computer da pseudo designer. Dove stiamo andando? Beh, questo insomma, dietro i ragazzi c'è Flavio Manzoni che è un architetto, oltre che è un designer di conseguenza. Si può dire tutto, tranne che Flavio Manzoni non sa più disegnare le macchine. Poi, le mode, le leggi, le soglie da cui i designer devono partire davanti, dietro, insomma, per le leggi, sui pedoni, la sicurezza. Già lì bloccano i designer in degli schemi che, menti come appunto quelli di designer architetti, non sempre riescono ad accettare questa cosa. Comunque, andiamo avanti. Leggiamo ancora i commenti perché, ragazzi... Ok, è un SUV, stilisticamente però la trovo meglio di alcune Ferrari recenti. Scrive Alemagne. Un altro scrive che il commendatore si sta girando nella tomba. Dice, oh, uh, 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 ride, ride, ride. Massimiliano Perolin. Scusatemi un attimo. Che sono arrivate delle notifiche ancora in Autoscout, ragazzi. Cos'ho su Autoscout? Io, da quando esiste Autoscout, ho sempre avuto qualche macchina inserzionata. Così, mi piace, conosco gente. E faccio girare un po' alcune macchine. Non mi chiedete quali, non mi chiedete quali. Farò un video dedicato. Allora, scrive Massimiliano Perolin. Puro sangue, ma dove? Certo che il commendatore si sta girando nella tomba, porello. Ho appena visto un video YouTube di presentazione. Quasi 20 minuti di insulsa chiacchierate. Senza nemmeno l'auto davanti, senza nemmeno avere l'auto davanti. Una sviolinata dove ad un certo punto gli hanno detto che non è come gli altri SUV. I Passarota sono stati disegnati perché appaia più basso. Beh, è vero però. Siamo al ridicolo. Ho la solita presa per il culo. Personalmente mi fa cacà. Dire che è bella anche solo per la presenza del V12 è assurdo. Fosse esistita con l'arma, col busso, sarebbe stata bella. L'unica nota positiva è che non l'abbiano ibridata. Almeno quello. Il minimo sindacale. Fatto per prendersi una fettina di mercato. Niente di più. Come alfa con tonale. Ah, una fettina. E diciamocelo. Non è automatico che se spendi 390 cappe urini hai la garanzia di non aver preso un tombino. Può essere invece che dimostri di non aver capito un tubo. Quello sì. E Grigia fa schifo ancora di più. Bruce Top come sempre. Bravo, ma siamo capi. Ma andai. Giuseppe Perani. Finalmente una Ferrari che riesce a parcheggiare sui marciapiedi senza rompersi. Ross. La macchina peggiore che Ferrari abbia mai fatto. Eppure ne venderanno a vagonate. Basta vedere la Urus. Certo ci vuole proprio tante ignoranze e mancanza di guasto, non di gusto, per comprare questa Ferrari. Emanuele Matera. Volere o volare è un mercato. Volere o volare è un mercato. Se ad un idrautico gli dicono che la caldaia a condensazione vendono più di quelle normali, lui le vende anche se non gli piacciono. È lo stesso per le auto. Puristi o non puristi, i SUV purtroppo vendono più delle sportive. In Ferrari, come dappertutto, badano agli utili e non ai puristi. Dura verità. Si chiama marketing. Si chiamano cash. Vito di Nun. Solo per il fatto di montare un V12 ispirato, per me ha vinto tutto. Stefano Guaiti. Alla presentazione diranno che riprende le linee, gli stilemi, la filosofia delle Ferrari storiche. Il Razzan 79. Il mercato del mondo richiede queste vetture. Anche se a noi appassionati non piacciono, la concorrenza di Lamborghini, Aston e Porsche è forte. Per cui, se questo prodotto può dare margini e profitto per lo sviluppo di altre auto sportive, benvenga. Teste di chiso. Teste di chiso. Ve lo dico io. Cos'è la Ferrari? La Ferrari più grigia di sempre. Andrea Missi. C'è il dirà del fatto che i SUV possono piacere o no? A me no. Io penso che se lo stile o design fosse stato del grandissimo, dal grandissimo stato fatto, stato fatto, se il design fosse stato fatto dal grandissimo Pini in farina, sarebbe stato in grado di soddisfare anche noi puristi. Ma dai, dai. La macchina, la macchina come linea c'è ragazzi, insomma. Non so se è una porcheria o se mi piace. Bello il fatto del V12, non ibridato, ma boh, una bella schifezza. Va, insomma, Nicola Ferrari. Alessio Mancini. Ha un V12 che suona bene. È Ferrari. Non è altissimo. A me piace, nonostante non sia amante dei SUV. Alessio Mancini. Audi 4. La fine di un minto. Vabbè, ma tu sei di parte. Andrea Merlin. Puro Sterk. Lasciamo stare. Marco Tamanti. Enzo Ferrari si sta girando nella barra. Odio i SUV. Alex B. Flavio Balsi, pure la Ferrari si è piegata a produrre, presentata poi nel colore più insulso. Non poteva essere a 390 euro buttati da un'ora. Invece adorassi. Emanuele Pianegiani. In questo video di veramente bello ho visto la Valdorcio. Il resto non male, ma niente di incredibile. Ragazzi, sono così, sono così i commenti. Cosa devi dire? Cosa devi dire? Niente. Dimmi tu nei commenti che cosa ne pensi. E fondamentalmente vi dico io che cosa completo il ragionamento. e vi dico io che cosa ne penso. Allora, sul prezzo non mi esprevo. Ragazzi, il lusso negli ultimi dieci anni ha visto, dieci, quindici anni, ha visto delle impennate incredibili. Cioè, le Porsche da 80 a 90 mila sono passate a 200 mila. Lo stesso le Ferrari, lo stesso le Astle. Tutto così, ragazzi. Quindi, le borse che costavano mille euro adesso costano 4 mila, 7 mila, 8 mila. Adesso è tutto così, ragazzi. Fare due settimane in una villa. Prima ci volevano 10 mila euro, una villa di prima. Adesso ce ne vogliono 30 mila, 50 mila. Sono andato a vedere delle 190 SL da restaurare, una restaurata, due da restaurare in vendita in una villa in Francia. La villa era in vendita a 52 milioni di euro. Non le macchine. Se vi interessano, ce ne sono ancora due, una è già andata e ce n'è una da restauro azzurra e una già restaurata da pasticcino che invece è blu. Chiuso a parentesi, scusate. Autoscappa. Allora, niente, volevo dirvi che sul prezzo non voglio dire niente. 3,90 tanti. Per tutti quelli che sognano sono tantissimi, ma per chi ha il grano è niente. Guardate le storiche, come si sono impennate. Ma tu 5 anni fa compravvi l'F40, 700, 500, 450, adesso ci vogliono un milione e mezzo, due milioni, due milioni e mezzo. È così, è così, è così. Sulla linea. Sulla linea io devo dire che da quando hanno iniziato a fare queste linee arrotondate, sia puntite ma anche arrotondate. sinuose, le bombature, insomma, dall'SP1, SP2 in poi. La Ferrari per me è bellissima. Credo che sia la massima espletazione diciamo dello stile un po' punta, dello stile non manga, ma quasi, ma poco ci manca. Quindi a me esteticamente piace. Sul nome. tanto marketing. Vabbè, insomma, quasi una provocazione. Perché dici, ragazzi, Ferrari è una puro sangue SUV. Capisco. È un po' come, è stato un po' come mettere sulla Taycan Turbo, Turbo S. Ecco, è la stessa cosa, uguale, identica. Loro vogliono tradurre in maniera marcata, forte e anche orgogliosamente che dicono è una Ferrari, è una Ferrari. Va come una Ferrari. Dovevano farla. Ultimo punto, ultimo punto. Anche se l'ho detto già durante il video. Dovevano farla, ragazzi. Dovevano farla, per forza. Perché? Non perché lo dice la passione, il cuore di un appassionato, ma perché lo dice effettivamente il mercato. Allora, ragazzi, io finché si tratta di andare a coprire una fetta di mercato nella quale la Ferrari non c'era, mi tiene il V12. Non è ibrido. Lo posso accettare. Lo posso accettare. Anzi, se fossi proprio uno di quei viziati che si compra tutto quello che vuole, ma volete che io in montagna non mi prendi... In montagna che a me non servirà niente in montagna. Magari con le termiche andrà bevino. Però insomma, dai, è meglio andare con un pandino 4x4 in montagna, questo voglio dire. Però io lo comprare. E niente. Il mondo va verso questa direzione. A me è quello che invece mi fa star male. E pensare che fra qualche anno, non ho capito bene se il 40 o il 60%, questo è quello che... che si dice sarà elettrico. E stanno studiando un sound che renda riconoscibili le Ferrari da tutte le altre auto elettriche. ecco a me è questo. Questo mi manda veramente al manicomio. non me ne frega niente che facciano il SUV o che facciano la quattroporte incazzata. a me è questo mi disturba. ragazzi, non ci resta che piangere. vabbè, noi invece continuiamo a praticare e a coltivare la nostra passione per i motori, per le belle cose e state con i bravi sono cose belle. mi raccomando, iscrivetevi al canale e ditevi nei commenti che cosa ne pensate. La rete è stata dura. Ma voi sapete benissimo che in rete la gente si lascia andare e quindi Vox Populi. Grazie, buona giornata, state con i bravi sono cose belle, buona passione a tutti. Iscrivetevi al canale, andateci a fare i ratti se non vi iscrivete. Ci vediamo al prossimo video. Ciao dal vostro amico Bruce. Ciao!